Mister, domani con il Prato un altro scontro diretto, una partita importante, una partita che arriva dopo il capo con il Gubbio, intanto quella è cancellata. Sì, quella deve essere cancellata, dobbiamo prendere tutte le cose negative, studiarle bene, cercare di capire dove abbiamo sbagliato, ma l'abbiamo capito, per cui mi auguro che questa sia una partita diversa e sono convinto che sarà una partita diversa. Lo stesso difficile perché poi il Prato viene da, mi sembra, nelle ultime 5 partite e 4 sconfitte, quindi ha bisogno assolutamente di punti, una squadra che davanti secondo me ha grande qualità, una squadra abbastanza giovane, però insomma una squadra che si trova lì in difficoltà, non so per quale motivo, perché davanti è forte secondo me. Ecco, questa difficoltà del Prato può essere un ulteriore insidio? Potrebbe essere un ulteriore insidio, però noi dobbiamo assolutamente passarci sopra, cercare di pensare ai nostri interessi, sono quelli di riuscire a tenere un risultato importante anche a Prato. Un dubbio a livello tattico almeno da quello che si vede? Sì, dubbio, per me la certezza c'è, no no no, non c'è dubbio, ci sono due possibilità, si può giocare in due maniere e non è un problema insomma, l'uno o l'altro va bene lo stesso. Avanti comunque con la difesa a tre anche proprio per l'attacco pericoloso del Prato? Sì, loro giocano, dovrebbero io, visto tutte le partite, giocare con le due punte centrali, è un trequartista e quindi noi probabilmente andiamo a giocare con la difesa a tre.